Allora, il menù questa sera prevede una frittata con cipolla di fara e peperone rosso di altino e poi c'è un pollo con un speciale in pano fatto con un pan brioche e sangue morlacco che era una bevanda di cui il nostro compaesano amava molto, che è una bevanda a base di marasche. Insieme a me c'è il mio collega Maurizio della Valle dell'Osteria La Corpia. D'Annunzio è una grandissima conoscenza della cucina italiana ma soprattutto anche europea, francese quindi amava piatti raffinati ma nello stesso tempo semplici ma fatti molto bene.